buongiorno a tutti e stiamo con alberto fioravanti che è il chief technology officer di digital max buongiorno alberto buongiorno a tutti alberto fioravanti è qui con noi e qui con noi in qualità di chief wizard diciamo così il mago dei capi c'è il capo dei maghi perché digital magics è una società che si occupa di far crescere altre società super innovative e la persona giusta secondo noi è tra le persone giuste per farci vedere un po più lontano rispetto a quello che vediamo ora e che ci possa far vedere che sta succedendo in questa nebulosa che mark zuckerberg ha deciso di chiamare metaverso ma che in realtà è una nebulosa che esiste già da parecchi da parecchi anni sono decenni è che è quella che una volta si chiamava realtà virtuale o in generale se vogliamo chiamarla con altri nomi il mondo digitale il mondo del web punto del 3.0 e cosa sta succedendo e cosa cosa sta succedendo per quanto riguarda l'oggi ma soprattutto cosa succederà e quali sono alla fine vogliamo lì e vogliamo arrivare quali sono le possibilità di investimento per poter capire quali saranno le possibilità di investimento questo momento c'è pochissima visibilità siamo dentro una foschia della nebulosa e quindi serve un mago perché serve un mago perché digital magics nasce parecchi anni fa quando proprio di queste cose si comincia a parlare il mondo digitale che è un po magico come sì come forse i fondatori e alberto fioravanti è uno dei fondatori di digital magics avevano cominciato a pensare a questo punto io ho già parlato fin troppo siamo qui per cercare di capire attraverso alberto fioravanti che sta succedendo soprattutto dal punto di vista tecnologico e quindi cosa c'è pronto cosa non è ancora pronto e quali potrebbero essere i confini e i contenuti di questo mondo che ripeto Zuckerberg ha definito metaverso e potrebbe essere un mondo digitale allora lascio la parola a te e ci dai qualche indicazione intanto sulle tecnologie quali sono quelle che sono già pronte ora quelle che invece non sono ancora pronte e cosa è intanto la prima definizione intanto il cuore del metaverso è una esperienza immersiva quindi si parte da un ambiente digitale multiforme in continua evoluzione che deve proprio trasformare la nostra esperienza di interazione con il web in qualche modo ci sono dei dati su quale sarà il valore di mercato non so c'è una ricerca di grandi research che prevede che il metaverso raggiungerà nel 2030 un valore globale intorno ai 770 miliardi di dollari con tassi di crescita composto di circa il 40 per cento quindi stiamo parlando di un mercato nel 2030 veramente importante e da che cosa è fondato si basa su una combinazione di fattori ad alto contenuto tecnologico che riguardano infrastrutture interfacce esperienze ibride e virtuali e soprattutto la comunità e della dei creativi di contenuti le crea la creator economy viene chiamata e in realtà oggi è difficile poter prevedere bene dove arriverà però giusto per dare un messaggio addirittura potrebbe portare abilitare nuove opportunità di mercato addirittura anche per il mondo della finanza comunque la parte se vogliamo di tutto da dimostrare ma ci arriviamo facciamo un po prima una carellata su quale sono gli enabler di questo metaverso più importante di tutti è l'esperienza visiva ed è quindi la sfida è innovare la tecnologia dei display che ci consentono di immergersi in un mondo virtuale fondamentalmente facendosi che l'immagine viene messa direttamente davanti agli occhi come esistono almeno tre grandi categorie di questi di questi display il primo sono gli headset immersivi che sono i vecchi apparati per fare virtual reality quindi in qualche modo esistevano già non è detto tu non è una novità però la sfida che hanno per arrivare a fare il metaverso è di completamente rivoluzionare queste questi apparati che fino adesso quelli che sono stati presenti sul mercato potrebbero essere preistoria perché perché l'esperienza vera del metaverso si raggiungerà quando non ci si rende più conto visivamente se siamo in un mondo reale o in un mondo virtuale quindi se non si nota la differenza cioè immaginatevi che si può parlare di un touring test del metaverso se una persona mette il suo il suo headset in testa e per lui è in realtà completa allora per raggiungere questa capacità c'è da fare tanti passaggi sulla tecnologia e c'è da mettere insieme diciamo da risolvere due grandi problemi la potenza di calcolo necessaria per questi apparati e la leggerezza di questi apparati quindi la miniaturizzazione e il discorso della potenza di batteria richiesta per alimentare questi apparati quindi oggi anche nel pochi giorni fa tre giorni fa Zuckerberg ha fatto vedere i suoi prototipi al mondo che su cui sta lavorando sono ognuno di questi risolto un piccolo problema quindi uno fa vedere che risolve le problematiche di distorsione quindi non c'è più l'affaticamento ecco una delle cose che si punta ovviamente deve essere un'esperienza che non faccia affaticare la vista questo si può ottenere tramite un controllo dei movimenti dell'occhio e questo è già in termini di laboratorio è possibile ma sono ancora attaccati a un computer con cavo che fa tutti i calcoli un'altra un altro prototipo serviva per dare la capacità di esprimere i colori che oggi hanno le nostre televisioni a casa le tecnologie hdr dolby vision cioè milioni di colori che consentono di essere più realistiche della realtà mettiamola così il prototipo che ha fatto vedere uno scatolotto enorme pesantissimo però la tecnologia quindi esiste è così però non siamo ancora quindi vicini a un industrializzazione ma questa sarà secondo me la parte probabilmente preponderante dell'esperienza soprattutto pensando al mondo del gaming in realtà poi esiste un'altra tipologia di device ottici che sono i già conosciuti reality glass cioè gli occhiali che consentono di sovrapporle alle cose che vediamo delle informazioni e l'ultima categoria ancora più veneristica sono le lenti a contatto smart che se ci pensiamo cosa nuova insomma comunque immaginiamoci che deve essere così miniaturizzato e così leggero che possa essere la potenza di calcolo alla batteria completamente inserita in una lente a contatto quindi siamo ancora più lontani come tempo l'audio questa seconda tecnologia immersiva riguarda la capacità di potere come nel mondo reale accorgersi che se si muove la testa delle cose che seguono quindi se io mi volto percepisco in modo diverso lo spazio ecco questa tecnologia audio immersiva in realtà è già qua non è una grande non è uno step così grande come per il video di fatto consente di percepire l'audio in tre dimensioni e quindi tenere conto anche dei movimenti della testa in alto in basso a destra proprio a tre dimensioni e quindi in questo caso abbiamo degli esempi già sul mercato di cuffie auricolari e canali musicali che consentono questo poi c'è una sfida ulteriore un'altra tecnologia che è il senso tattile haptiche in inglese quindi l'interazione con la nostra realtà virtuale che consentisse anche consentirà anche di percepire col tatto gli oggetti e il mondo che andiamo immersivamente a navigare quindi i guanti tra virgolari immaginiamoci dei guanti posso posso allora questo è il quadro la cosa secondo me importante è che tu ci hai messo insieme complessità tecnologiche alcuni per alcuni aspetti su alcune di queste siamo vicini su altre mi pare di capire un po più lontani però tutte queste complessità tecnologiche nascono da qualcosa che è molto nostro cioè dal fatto che io e te che adesso ci parliamo in questa modalità non stiamo replicando esattamente il nostro comportamento se dovessimo incontrarci quello che noi spesso diciamo in questi due anni dalla pandemia non è come incontrarsi di persona e cosa intendiamo quando diciamo non incontriamo non ci incontriamo di persona ci manca qualche aspetto che a volte non riusciamo anche bene considerare ma che tu c'hai in qualche modo delineato cioè il linguaggio dei corpi ma mi viene in mente per esempio alle grandi difficoltà della didattica a distanza per una cosa che forse ci riguarda tutti come studenti o come insegnanti c'è la differenza che c'è tra la lezione frontale con lo studente che ti ascolta o lo studente che ascolta e invece quanto viene perso è tantissimo probabilmente nella nella data la didattica a distanza dove c'è qualcosa che sfugge ecco e tu ci stai parlando di questo cioè ha inquadrato secondo me molto bene la sfida tecnologica che va che va che arriva nel momento in cui uno entra un po negli aspetti più sottili perché dice ma io capisco quello che tu mi stai dicendo e tu capisci quello che io sto dicendo a te ci basta questo in realtà non ci basta questo perché altrimenti molto completo no cioè immaginiamoci che siamo ormai abituati alle videoconference che sono già stati un salto rispetto al passato però immaginiamoci che grazie al metaverso potremmo fare delle riunioni in cui entriamo in una stanza e siamo a un tavolo e vediamo l'intera persona di fianco a noi e tutte le persone collegate e io posso mettermi vicino all'orecchio di uno dei partecipanti questa stanza e suggerigli qualche cosa senza che gli altri sentano perché grazie all'audio 3d io riesco a replicare esattamente l'esperienza fisica per l'audio e per il video quindi è evidente che proprio il nostro essere animali sociali gioverà molto la possibilità di replicare in remoto la possibilità di fare delle riunioni che sembrano vere non avremo ovviamente alcuni dei nostri dei nostri dei nostri sensi quindi i profumi non si sentiranno ma sarà già un un altro grande passo avanti senti allora è io tornerò a quello che hai detto all'inizio cioè tu hai detto queste teniamo per buone queste proiezioni sono un sacco di soldi e facciamo a questo punto tu sei un mago e ci aiuti a diciamo che superiamo di slancio queste complessità tecnologiche e immaginiamo che siamo nel 2029 a questo punto a me viene da chiedermi varie cose la prima che mi viene in mente ma e poi ci andiamo dentro va beh sì potremmo fare la riunione ed essere più vicini essere più comunicativi ma tutto lì c'è 770 miliardi che sono una cifra grande solo per questo mi sembra poco l'altra cosa è non è che questo punto spesso si diceva ai tempi all'inizio dalla rete non c'è ho la mail ma perché dovevo comunicare via mail sembra una cosa banale perché siamo senza la mail soffochiamo non diamo più l'ossigeno in realtà per tanti anni la mele è una cosa che ha vissuto vicino alla lettera tradizionale quindi ecco cosa cosa potrebbe voi cosa vedete cosa vedi cosa ti aspetti che possa essere il metaverso come utilizzo e magari ci metto qualcosa anche diciamo così un po di etico quali potrebbero già essere adesso i pericoli perché sapendo il videogame per esempio videogiochi in generale sono che generano con sé anche un problema di ludopatia di attaccamento morboso a queste cose io diciamo sono abbastanza d'accordo con molti analisti che dicono che prima che diventa una realtà mainstream passeranno dieci anni però una volta che queste tecnologie saranno mature probabilmente sostituiranno molti degli apparati che oggi usiamo tutti i giorni cioè pensa al televisore in casa attaccato al muro da 65 pollici immaginati che con questo tipo di di tecnologia io posso avere un'esperienza da come se avesse uno schermo da 120 pollici quindi essere al cinema immerso completamente con suoni 3d quindi anche la parte dell'esperienza di visione del cinema del video in generale cambia e così per immaginiamoci la possibilità di partecipare in un concerto live senza andarci ma essere proprio lì e sentire esattamente come se fossi lì quindi sostituirà da casa quindi in qualche modo non dico che mangerà tutte le altre tecnologie però sicuramente destinato come è successo per lo smartphone lo smartphone ha sostituito un sacco di apparati cioè la videocamera telecamera il c'è ecco probabilmente questi apparati sono destinati sempre che mantengono la promessa di non essere a faticare di essere leggeri sempre se abbiamo detto fra dieci anni si riesce certo consentono di pensare a non solo la sostituzione di esperienze che oggi già in qualche modo faccio in un altro modo ma di creare di nuovo complete questo è il vero la vera sfida cioè in questi anni si sta decidendo che cosa sarà il mondo digitale che vorremmo avere che cosa ci porteremo dietro del mondo di internet di oggi e che cosa lasceremo indietro e quando si diceva prima che potrebbe avere degli impatti anche sulla finanza e che in realtà anche lo stesso modello di business del metaverso è ancora tutto da vedere dove va cioè da una parte si può pensare che sia ci sia un mondo come i mondi gli open world dei giochi in cui uno può entrare e avere delle sue esperienze andare in giro basato su biglietti d'ingresso o sua pubblicità questa è una delle cose molto molto possibili non so se molti di voi si ricorderanno del 2003 di Second Life in qualche modo un precursore del metaverso ovviamente preistoria rispetto a quello di cui stiamo parlando adesso ma che poteva muoversi su questo tipo di di meccaniche ma in realtà c'è anche la possibilità che diventi qualcosa che sia spinto dalle cryptocurrency cioè un posto dove l'utente possa veramente acquistare un pezzo di terra come un benefici come come oggi compro una casa o compro una borsetta in questo mondo io potrei anche spendere soldi per acquistare dei beni digitali ci sono ovviamente ancora delle grandi delle grandi sfide che non sono solo di sviluppo di tecnologie di interfaccia e che riguardano diciamo il fatto che per diventare mainstream ci vogliono degli standard quindi oggi quello che si vede emergere sono ancora delle tecnologie proprietary cioè non aperte non open quindi non interoperabili ma come è successo per il web è stato lo standard del world wide web che ha reso internet potente quindi anche nel caso del metaverso dovrà emergere uno standard che consentirà di interagire con persone che hanno apparati di marche diverse adesso mettiamolo in termini semplici questo è la sfida dell'industria un'altra grande sfida è sicuramente quella della sicurezza e della privacy abbiamo visto che internet 1.0 e 2.0 non normate da un punto di vista di sicurezza e privacy hanno fatto molti disastri perché perché purtroppo le minoranze non sono tutelate ci sono casi di arasma e beh insomma sappiamo del problema della privacy e anche qui secondo me come aspicano alcuni fondi di venture capital dovrebbero essere dovrebbe essere creata una una linea di che si condivisa tra tutti gli sviluppatori del metaverso sulla sicurezza e sulla privacy quindi un qualcosa che non sia che non arrivi dalle legge che arriverà tardi tra virgolette perché ma che siano le stesse aziende mette in prima a disegnare la privacy by design e la security by design e i loro sistemi sappiamo che non è semplice ma credo che questo sarà l'opportunità per creare e avere un sistema più sicuro e più tutelante la privacy di quelli che abbiamo ora nell'internet attuale e infatti tu hai parlato se mi posso permettere tu hai parlato del ruolo di venture capital e mi pare che in questo modo ci possiamo anche essere avvicinati a quello che è uno dei mestieri o forse mestiere principali poi ce lo chiarirai di digital magics e a questo punto io vorrei parlare anche un po' dall'attualità o comunque spostarci dal futuro lontano a un futuro molto più immediato e quindi parlare anche di quello che sta facendo se sta facendo qualcosa di digital magics su questo ambito però prima di iniziare a parlare un po' di più di spostare di passare dal telescopio abbiamo guardato lontanissimo a un canocchiale con cui guardiamo molto più da vicino io manderei un video che ci racconta un po' chi è cosa fa digital magics e in qualche modo è un soggetto innovatore uno dei soggetti che si trovano per chi punta sull'innovazione oggi a piazza affari un po' chi è un soggetto innovatore Grazie a tutti. Con le immagini, c'è il racconto di noi che raccontiamo con le parole, un po' con i gesti anche, e poi c'è il racconto per immagini, noi stiamo ragionando un po' su questo momento in cui ci sarà una fusione in un altro mondo, che è un mondo molto importante anche dal punto di vista degli investimenti che entrerà, ci ha raccontato Alberto Fioravanti, che però adesso ci racconta un po' cosa sta facendo Digital Max, abbiamo visto dal video che ci sono 80 startup, per esempio la prima domanda, ce n'è qualcuna, almeno una che si occupa di questo? Tra quelle che voi avete in questo momento nel vostro incubatore o ne stanno per arrivare? Ci puoi dire qualcosa? Ne stanno per arrivare, anche perché immaginiamoci che la parte di ricerca di base sulle tecnologie la fanno in America con capitali di miliardi. La nostra capacità di creare innovazione molto spesso in Italia è quella di utilizzare queste tecnologie per far evolvere il nostro mercato, i nostri servizi, quindi la tecnologia di base se la possono permettere veramente poche aziende, diciamola così. Cosa facciamo? Noi siamo un incubatore certificato, siamo il più attivo, il più importante early stage investor in Italia, abbiamo aiutato più di 160 aziende a crescere e abbiamo un piano industriale che ci porta a aumentare questo numero di 50 aziende all'anno, quindi aiutiamo e diventiamo soci di 50 startup all'anno. Il nostro modello di business è legato alla valutazione del nostro portfolio, quindi la scommessa è di riuscire a prendere con queste startup l'onda dei nuovi mercati e della crescita come è successo nel passato. Quindi abbiamo sicuramente una storia lunga, se vogliamo, quindi abbiamo visto che siamo partiti nel 2004, ne abbiamo viste tante. Il passaggio che abbiamo fatto col piano industriale dell'anno scorso è aver messo a punto una metodologia scalabile tramite i programmi di innovazione che consente di fare impatto in termini numerico di quante startup riusciamo ad aiutare, seguire e diventare soci. E su questo vorrei appunto... Secondo me un altro dato che ci tengo a dirlo è che più nel 2021 più del 50% delle nostre startup avevano comunque qualche impatto ISG. È un qualcosa che sta nel nostro DNA, abbiamo incominciato nel 2020 a fare il nostro primo bilancio di sostenibilità e devo dire che è stato interessante finalmente misurare queste cose che prima si facevano ma senza mettersi a tavolino con il Nextel a fare i conti. In termini di impatto sul programma di accelerazione, quest'anno faremo 5 programmi di accelerazione. Il primo, vi cito giusto per dare l'idea dei settori di questo impatto, sostenibilità, prop-tech, quindi tecnologia abilitante per la gestione dell'efficientamento energetico, della domotica, dei building, della costruzione. Fintech e di insurtech, non c'è bisogno di descriverlo. IoT, quindi 5G e apparati intelligenza in piccoli device sparsi in giro per il mondo, IoT. E l'ultimo che stiamo costruendo in questi giorni è quello basato sull'intelligenza artificiale, cioè un grande sforzo di chiamare a raccolta le start-up italiane e europee per provare a usare l'intelligenza artificiale per affrontare le grandi sfide del nostro mondo e delle nostre aziende. Ora, mi hai chiesto se stiamo facendo qualcosa, il metaverso in questo caso è trasversale, quindi ci sarà nel prossimo programma probabilmente di insurtech e di fintech anche un'attenzione al metaverso, così come negli altri settori, perché immaginiamoci 5G IoT, già lì c'è la possibilità di, con quella qualità di banda e di connettività, di avere, come si è visto in molti video dimostrativi del 5G, la possibilità di essere nel proprio ufficio, ma lavorare in diretta, senza un cavo, basato solamente sulle onde del 5G. Quindi, in qualche modo il metaverso diventerà trasversale, non credo che faremo un programma di accelerazione sul metaverso, ma sarà una tecnologia che penetrerà, pensiamo al Proptec, che consentirà ai creativi di poter navigare, ancora prima di aver costruito i loro quartieri, le loro città, di poterlo navigare in maniera virtuale. Non è che oggi non si faccia in questo modo, ma sto parlando di un'esperienza veramente immersiva. Quindi non sarà una città di fondazione come Brasilia, cioè che io mi metto lì e costruisco da zero nella giungla la nuova città che sarà il metaverso, ma diciamo una città che si aggiunge pezzo alla volta a cose che già ci sono, che ovviamente è già una città super evoluta, ma è qualcosa che piano piano viene assorbito da un mondo che già c'è e Digital Magic, mi par di capire, che si è già ben sintonizzata, se vogliamo usare un termine mai desueto, che è quello della radio. Diciamo che a noi non piace usare le buzzword, usare le keyword che vanno di moda, perché ci piace essere concreti. Al momento giusto e soprattutto quando arriveranno le start-up con delle proposte di progetti imprenditoriali basati su questi nuovi mondi, saremo i primi ovviamente a cercare di aiutarli in questa sfida. L'interesse da parte dell'industria c'è, posso dire che l'interesse da parte dell'industria, delle aziende, nell'esplorare il metaverso e prepararsi a questo mondo c'è. Quindi saranno gli stessi partner industriali dei programmi di accelerazione che ci indicheranno quali sono le cose che vogliono sperimentare prima, grazie alla capacità innovativa delle nostre start-up fantastiche. Siamo andati un po' lunghi, ma secondo me valeva la pena prenderci qualche minuto in più, perché con Alberto Fioravanti siamo riusciti, secondo me, oggi a fare un passo in più verso questo futuro per ora, abbiamo capito, abbastanza lontano, non lontanissimo, non è una chimera, qualcosa che ha solide basi, complessità tecnologica da superare, problematiche, diciamo così, umanistiche anche, la sensorialità, l'esperienza, che per alcuni aspetti possono sembrare anche, diciamo così, semplici, tipo gli occhiali giusti, l'attento a contatto. Mi sembra un po' come quando a un certo punto si parla, la televisione entra nella nuova fase, e alla fine il grande tema era, sì, ma questa io la voglio vedere sul divano, no? Il divano è diventato un posto che è discriminante per il successo di un certo tipo di fare televisione. Va bene, a questo punto chiudiamo, ringraziamo Alberto Fioravanti di averci raccontato, dato una mano per capire qualcosa in più sul metaverso, sulla realtà virtuale, e a risentirci, a rivederci in questi prossimi approfondimenti. Grazie a voi.